Alcuni cambi sono stati dettagli dalla condizione fisica di alcuni giocatori che rientravano da infortuni e quindi non avevano quella brillantezza che li contraddistingue. Altro è non dare punti di riferimento all'avversario, quindi siamo scesi in campo con una formazione un po' più difensiva all'inizio per poi invece nella seconda parte del primo tempo, visto che stavamo sotto con un grandissimo aerogol perché abbiamo subito un gol fantastico e cercare di, così, con la spizzata, con la palla lunga sulla nostra torre di trovare quella giocata che ci è riuscita una volta e altre 3-4 volte il portiere ci ha messo veramente del suo per evitare che segnassimo.